signori buonasera benvenuti a casa mia benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria allora cari signori mi riporto avanti con le richieste mi è stato chiesto di parlare di un aeroplano italiano molto poco noto molto poco conosciuto rimasto praticamente prototipo unico parliamo del caproni fabrizzi mf6 m eccolo qua eccolo qua eccolo qua praticamente si tratta di un prototipo derivato dal fabrizzi f5 motorizzato con i motori in linea tedeschi daimler benz allora praticamente la genesi di quest'aereo parte nel 1939 e la direttiva ministeriale che voleva un ritorno al motore in linea dopo chiamavano col suo nome dopo la la disastrosa pensata dei motori radiali e dicevo l'ingegner guglielmo negri che era direttore tecnico della caproni vizzola progettò lo f6 con l'autorizzazione di trattenere in ditta l'ultimo f5 serie 1 la matricola militare 5932 per trasformarlo nel prototipo dello f6 con motore in linea allora ricordiamo che questi progetti portavano come sigla la lettera f in ricordo dell'ingegner fabrizio fabrizzi che era un tenente della regia aeronautica ruolo ingegneri che era il progettista del di questi aerei morto in un incidente aereo allora come motore per il per lo f6 m eccolo qua eccolo qua ripeto fu scelto il daimler benz db 601 a 1 12 gilindri av rovesciata da 1175 cavalli al decollo con il quale lo f6 talvolta indicato come f6 ala legno per distinguere dal successivo sviluppo come f5 o f5 bis avrebbe potuto competere con il 202 e con il reggiane 2001 allora il primo volo dello f6 m avvenne per opera di uno dei nostri più famosi e celebrati piloti di tutti i tempi ovvero sia francesco agello il famoso primatista degli idrovolanti degli idrovolanti da corsa e allora il 26 ottobre agello ebbe un lieve incidente che causò danni riparabili alla alla macchina per inciso agli gli addetti della verniciatura fecero un errore e stampigliarono sul timone la scritta caproni vizzola 4 mm 5932 e per questo molte fonti lo citano ancora come f4 allora c'è da dire che la documentazione sui caccia della caproni vizzola è incompleta ma si ritiene che vista la buona accoglienza data dai piloti all'f5 il gruppo caproni avesse deciso di far partecipare la cellula dell'ingegner negri anche ai successivi concorsi allora risulta l'assegnazione di due matricole della serie sperimentale mm 481 al allo f6 con ala metallica e mm 49 e 489 ovvero sia quello con l'ala in legno e poi ci fu forse il 5932 ricostruito e modificato allora il primo volo il primo volò nel settembre 41 pilotato dal tenente carlo antonelli e il 9 maggio 42 fu assegnato alla 303 ma squadriglia con il quale prese parte a un breve ciclo operativo in difesa a dire il vero non esistono fotografie che consentano di attribuire di attribuire con certezza cioè insomma non ci sono fotografie che con che scusate mi sono impappinato dicevo non esistono fotografie che ritraggano con certezza la l'aereo con la matricola militare 489 ma sappiamo che in una data imprecisata ma non prima del maggio 42 il collaudatore sante moda portò in volo un f6 con il motore db 605 allora temendo difficoltà nelle forniture dei motori perché come ben sappiamo i motori in linea per i nostri caccia erano disperatamente pochi sia quelli forniti dai tedeschi sia quelli fabbricati su licenza in italia e la direzione generale costruzioni aeronautiche richiese all'industria delle soluzioni alternative e così furono progettati il caccia leggero f5 gamma con motore isotta fraschini gamma da 540 cavalli che ovviamente venne abbandonato prima della costruzione perché praticamente non si sarebbe sollevato in aria cioè dove vai con 540 cavalli vabbè lasciamo stare e poi l'f6 z definito il 16 giugno 1942 che prevedeva un isotta fraschini z rc 45 24 cilindri ax raffreddato ad aria da 1250 cavalli allora dell'f6 z fu ordinato un prototipo ovvero sia il lo mm la matricola militare 498 e probabilmente ne fu previsto un secondo in versione silurante il cui progetto riporta la data del 23 giugno 42 allora l'aereo l'f6 z con la matricola militare 498 uscì di fabbrica nel luglio 43 ma il 9 settembre fu sequestrato dai tedeschi prima che moda avesse potuto iniziare i collaudi la serie dei progetti di caccia dell'ingegner negri si conclude con l'f7m con motore isotta fraschini delta rc 45 l con la sua versione silurante entrambi non realizzati allora capronica fabrizzi f6 eccolo qua questo è un altro è un'altra delle rare foto dell'esemplare che lo ritraggono e questo è lo il mefitico f6 z con motore isotta fraschini z 24 cilindri a x raffreddato ad aria uno dei peggiori motori mai concepiti nella storia dell'aeronautica in pratica si trattava di due motori isotta fraschini delta raffreddati ad aria disposti uno sopra l'altra con la configurazione a x che vi lascio immaginare cioè io ne avevo parlato anche in un altro video circa un paio d'anni fa dell'isotta fraschini z un motore a dir poco disastroso un motore pesante complicato estremamente inaffidabile perché insomma vi lascio immaginare un 24 cilindri a x raffreddato ad aria i problemi di raffreddamento che poteva avere in questa configurazione infatti le ultime quattro coppie di le ultime due coppie scusate le ultime coppie di cilindri le ultime quattro coppie di cilindri di questo aereo avevano la sin l'antipatica e brutta tendenza di come dire grippare se andava bene di prendere fuoco se andava male insomma ve lo lascio immaginare l'idea in teoria poteva non essere campata in aria ovvero sia sfruttare le linee di produzione di un motore già in riproduzione eliminare la complicazione del raffreddamento a liquido e ottenere un motore insomma un motore in linea potente della classe dei 1200 cavalli e che garantisse una buona struttura aerodinamica all'aereo cioè in realtà siamo sinceri era una clamorosa boiata detta così com'è perché insomma siamo sinceri 24 cilindri a x raffreddati ad aria insomma qualche problemino di surriscaldamento era assolutamente inevitabile ma ahimè ai geni dell'isotta fraschini questa cosa qua non venne mai in mente pare e persero due anni e mezzo se non ricordo male nei tentativi di sviluppo di questo ignobile motore che non funzionò mai e che a quanto pare non prese nessun nessun caccia insomma praticamente nessun nessun aereo che per la cui costruzione era stato previsto lo z volò mai in pratica fu un motore che girò soltanto al banco e che al banco come ho già detto aveva la brutta tendenza a grippare le ultime quattro coppie di cilindri se andava bene se andava male prendeva fuoco come un cerino tutto qua quindi cari signori ripeto non c'è molto da dire dello del caproni fabrizi fsi la struttura in sé e per sé era valida ma oggettivamente non c'era molto spazio di manovra per fare concorrenza ad aerei come il macchi 202 o come il reggiane 2001 che avevano siamo sinceri caratteristiche migliori e che e la cui industrializzazione era già pronta ecco qua e poi per non parlare poi dello f6 z che oggettivamente si merita a pieno titolo e come dire la qualifica di bidone assoluto non tanto per colpa della cellula dell'aereo perché ripeto la cellula delle base dell'f6 era il buon fabrizi f5 che aveva delle buone caratteristiche di volo ma ahimè l'f6 z era per penalizzato da un propulsore da un propulsore assolutamente ignominio tutto qua quindi io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e tanto per cambiare arrivederci al mio prossimo video ciao